Ciao, buongiorno, oggi ti racconto di un'azienda che vende con un modello particolare che sta funzionando ed è la vendita all'interno dei centri commerciali con dei punti di sales, quindi vendita fatta direttamente all'interno di punti dove ci sono moltissime persone presenti. È un modello che funziona, la prima domanda che ho fatto a uno dei rappresentanti di questa azienda è come funziona questo modello, le persone che stanno facendo vendita per questa azienda stanno ottenendo ottimi risultati sia professionali sia economici. Ho intervistato questa azienda, ho fatto un po' di domande per capire se può essere un'opportunità interessante sia per chi ha esperienza di vendita ma soprattutto anche per le persone nuove che stanno approcciando alla vendita da pochissimo tempo. La risposta è stata sì, è molto interessante, quindi ti lascio l'intervista in cui ti raccontiamo questo progetto. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io oggi ho il piacere di avere il mio obbligo a te, Nicola Delle Grazie. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Nicola, abbiamo raccontato nell'intro di cosa vi occupate ma ho il piacere che tu mi spieghi esattamente Performa, che è l'azienda che in questo momento stai rappresentando di cosa si occupa e cosa sta esattamente nel vostro mercato. Performa è un'agenzia di vendita nel mondo delle telecomunicazioni e dell'energia Noi lavoriamo in partnership con Fastweb, con Eolo e con Eni. Noi vendiamo servizi di connessione internet sia per l'abitazione e gli uffici sia anche per l'utenza mobile. Ok, l'ho fatto in una maniera un po' particolare che probabilmente tutti abbiamo già visto, ma avete un modello commerciale che vi caratterizza, giusto? Esatto, noi lavoriamo principalmente nelle gallerie dei centri commerciali. Noi abbiamo dei cosiddetti gallery shop, nel senso che sono delle strutture fisse all'interno delle principali gallerie commerciali siamo presenti con contratti pluriennali e noi approcciamoli i potenziali clienti. Chiaramente in un centro commerciale il corso di clientela è continuo e molto elevato. Di conseguenza per il venditore che vuole vendere, vuole proporre il servizio, ha possibilità di tanti contatti giornalieri. Inoltre, essendo proprio in mezzo alle gallerie commerciali, siamo molto visibili. Di conseguenza anche il cliente che cerca Fastweb o cerca Eolo perché ha visto la pubblicità, perché è il suo amico, lo ha consigliato, ci trova molto facilmente. Chiaramente avendo un bacino di utenza così grande e attivando tanti clienti, anche i clienti che tornano per referenze sono elevati. E al cliente fa sempre piacere trovare lo stesso gallery shop nella stessa posizione e molto spesso con gli stessi consulenti di vendita. Tu mi raccontavi che avete 30 punti in questo momento, quindi siete già un network con moltissimi punti nel vostro territorio. Avete questa caratteristica per cui siete costantemente presenti. Mi stai dicendo anche che molti clienti vi fanno delle segnalazioni, quindi non è solo passaggio, ma proprio creare una relazione continuativa con i clienti che sanno che esistete sempre. Quali sono le figure commerciali che state cercando in questo momento? Che caratteristiche hanno per fare molto bene questo tipo di attività? Allora, la persona che noi stiamo cercando è un venditore, un agente che abbia avuto almeno qualche anno di esperienza nel mondo della vendita. Non è necessario che sia stato nel mondo della telefonia. L'importante è che sappia come parlare, come trattare con i clienti. Detto questo, nel nostro staff noi prendiamo anche persone junior, per cui persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo fantastico della vendita, anche come prima esperienza. Immagino che voi avete chiaramente un piano molto interessante comunque di formazione, quindi voi vi rigevolgete già venditori, agenti che fanno già questa attività, li mettete chiaramente in un contesto dove i clienti arrivano, quindi comunque c'è sempre un flusso di opportunità sempre presenti, ma fate anche formazione ai junior alla fine. Sì esatto, noi abbiamo una sales academy interna, collaboriamo con diverse strutture di formazione specializzate nella vendita, una di queste è ad esempio Del Carraghi, per cui abbiamo diversi percorsi sia per l'agente junior, ma anche per l'agente senior che vuole mantenersi in allenamento. E poi ecco, ogni venditore ha un suo sales coach che da quando entra in azienda, dal primo giorno lo segue per tutta l'agente. Ottimo, mi raccontavi, ma non lo svegliamo in questo video, se vogliamo far conoscere questa informazione, le persone che stanno guardando questo video ti devono contattare e candidarsi, ma mi raccontavi che comunque diversi venditori della tua rete, fanno degli ottimi numeri, quindi rientrano poi anche in inguadagni molto interessanti, perché alla fine avete un modello interessante per il numero di afflusso che c'è, il numero di brand molto importanti che facciano anche chiaramente tanto advertising, quindi rappresentate da aziende che sicuramente lead di mercato, e le opportunità che un venditore riesce a generare in questo modello sono davvero importanti, ma lascio chiaramente questa informazione a un approfondimento che farai con le persone che si candideranno a questo annuncio. Ti faccio però l'ultima domanda, Nicola, io la faccio a tutti. Perché un bravo venditore, o anche una persona che vuole approcciarsi al mondo della vendita, e vorrebbe trovare quell'azienda dove riesce a applicare un modello commerciale, quindi trovarsi anche una situazione dove le opportunità di vendita sono reali, perché dovrebbe candidarsi, quindi rispondere a questo annuncio, contattare voi e approfondire con una chiacchierata? Noi siamo nel mondo della vendita delle comunicazioni dal 2001, lavoriamo con Fast praticamente da quando è nato, nel 2001, e dal 2008 lavoriamo nelle gallerie dei centri commerciali, per cui sono passati ormai 13 anni da quando abbiamo iniziato a lavorare nelle gallerie commerciali, e questo devo dire che porta redditività, soprattutto per le persone. Noi abbiamo persone che lavorano con noi da oltre 10 anni, la cosa interessante è che noi abbiamo anche un percorso di crescita, nel senso che il venditore che vuole sperimentarsi e cimentarsi anche nella gestione delle persone può crescere, può diventare un responsabile di vendita, che può gestire due punti vendita, due punti vendita, 10 punti vendita, e questo è molto importante. L'altra cosa che dicevo prima è la formazione, perché noi facciamo formazione continua, per noi le persone sono importanti, la cosa più importante della nostra azienda sono le persone, per cui ci teniamo a fare in modo che queste persone crescano continuamente, siano continuamente soddisfatte del lavoro che fanno, sia dal punto di vista morale che anche dal punto di vista economico. ogni venditore, ogni persona che lavora con noi ha un sales coach che lo segue dal primo giorno in avanti, noi abbiamo, poi una cosa molto interessante per gli agenti, noi abbiamo una piattaforma web, dove ogni agente può monitorare lo stato di attivazione del suo cliente, e di intervenire nel caso ci sia qualche intorno. Questo ci piace, perché trasmettiamo più trasparenza alla gente. Mi raccontato molti aspetti positivi, credere nelle persone è fondamentale, voi lo state facendo perché i numeri vi danno ragione, la storia e quello che state facendo, la crescita vi danno ragione, e quindi sicuramente chi è interessato avrà l'opportunità di conoscere te, Nicola e il tuo team, quindi candidatevi usando il form che trovate in questa pagina, se vedete questo video nei nostri canali social c'è il link in descrizione per accedere poi alla pagina di approfondimento e contattare Nicola, il suo team e Performa, che saranno sicuramente lieti di conoscervi. Nicola, per me è stato un piacere di raccontare un po' questo modello che per la prima volta stiamo raccontando effettivamente al nostro pubblico, per me è stato un piacere, ti ringrazio. Grazie a te, Satia. Buona giornata. Buona giornata, ciao.